Ora do la parola a Elena Vanadia. Elena Vanadia è neuropsichiatra ed fa parte del servizio di valutazione dell'istituto di ortofonologia. Ci parlerà della sua relazione, titola Individuare i disturbi della regolazione ai fini della diagnosi. Ben trovati, buongiorno a tutti. Io inizio questo racconto, questo percorso che vorrei fare insieme a voi con la lettura di un piccolo estratto dell'introduzione della classificazione diagnostica 03 nella sua revisione del 2005. Lo faccio perché chiaramente siamo nella parte del convegno che si occupa di questa fascia di età. Abbiamo parlato tanto di diagnosi precoce e come ha ben sottolineato la dottoressa Di Renzo più volte l'idea che si possa fare una diagnosi precoce non deve mai essere confusa con l'idea che la diagnosi deve essere anticipata. Pertanto mi sembra importante anche sulla scorta di quello che ha appena detto la dottoressa Binetti che le leggi così come le classificazioni vanno utilizzate nel modo giusto. Allora qui si legge il processo diagnostico. Per il clinico il processo diagnostico è continuo. La diagnosi non si basa su un'unica istantanea dei sintomi ma piuttosto su una raccolta di informazioni nel tempo in modo da comprendere più sfaccettature del problema e anche i cambiamenti nell'adattamento e nello sviluppo che si manifestano in situazioni diverse e in diversi contesti. Del processo diagnostico fanno parte due aspetti, la classificazione dei disturbi e la valutazione degli individui. Noi classifichiamo i disturbi, non le persone. Essenzialmente classifichiamo i disturbi affinché i professionisti possano comunicare chiaramente circa le sindrome descrittive. I clinici possono così collegare le loro osservazioni alle nuove conoscenze relative all'eziologia, alla patogenesi, alla storia naturale del disturbo e alle aspettative connesse con il trattamento. L'utilizzo del linguaggio comune di un sistema di classificazione diagnostica facilita il legame degli individui con i servizi e quindi può facilitare lo sviluppo di appropriati sistemi di cura della salute mentale. La valutazione dei soggetti tuttavia precede necessariamente la classificazione. Valutazione e classificazione sono entrambi strumenti della formulazione clinica. La formulazione clinica implica l'integrazione di più osservazioni dirette e fonti di informazione circa il soggetto all'interno di uno schema diagnostico globale così da guidare il clinico su come procedere successivamente. È chiaro che non avrei potuto dirlo meglio per questo scelto di leggerlo perché credo che debba essere nella mente e nel cuore quando ci occupiamo di bambini di ognuno di noi avere come obiettivo una osservazione e una valutazione del bambino prima ancora della ricerca del disturbo della classificazione. Io amo molto l'iconografia perché secondo me resta impressa nella mente con il concetto che chiaramente sta attorno. In questo caso ho messo la piramide perché è un modello che rappresenta la sinattività, se vogliamo usare il termine della dottoressa Hals, dello sviluppo, in particolare dello sviluppo del bambino. Questo significa che se i livelli precedenti, definiamoli di organizzazione o di specializzazione funzionale o di acquisizione di abilità non sono ben stabilizzati, il bambino non potrà accedere al livello superiore o comunque non potrà in modo armonico esprimere la abilità seguente. Questo è un concetto molto importante perché dallo sviluppo neuropsicomotorio allo sviluppo che dall'area affettivo emotiva e relazionale porta allo sviluppo delle funzioni cognitive e vedremo più avanti come questi siano tra di loro correlati, è un parametro che deve essere sempre tenuto a mente. Nell'iconografia ho messo anche il cerchio perché il cerchio è chiaramente simbolo di equilibrio ma la circolarità, se ne è parlato anche ieri, è un altro parametro fondamentale da tenere a mente e perché tutti gli elementi devono convergere, devono essere in armonia perché questo cerchio si possa chiudere. Allora quando parliamo di regolazione parliamo di un equilibrio che si deve raggiungere affinché il bambino, nel caso specifico un malindividuo, possa esprimere in modo armonico le sue competenze e questo è il sistema interattivo in cui per interazione non si intende soltanto interazione relazionale quindi tra un individuo e un altro ma interazione tra i nostri, definiamoli, sottosistemi perché in realtà la complessità credo che sia l'elemento distintivo dell'uomo e al tempo stesso sia quell'elemento che credo ci lasci sempre stupiti di fronte alla meraviglia dell'organismo umano. Questo è un altro paragone che mi piace fare perché quando parliamo di regolazione parliamo sia di aspetti emotivi, affettivi e relazionali ma parliamo anche di aspetti fisiologici e di aspetti cognitivi. Per cui quello che voglio sollecitarvi è il pensiero che se l'organismo umano è così sofisticato, è così delicato che se il pH può variare nel sangue da 7,35 a 7,45 e variazioni anche minime oltre questi livelli possono portare a scompensi fin anche letali non vedo perché non dovremmo pensare che l'equilibrio emotivo, percettivo, sensoriale debba essere considerato così importante nello sviluppo di un bambino. Allora la regolazione come capacità costituzionale del bambino di regolare i propri sistemi ma anche come strategia appresa per attivare delle risposte rispetto all'ambiente. Dall'altra parte omeostasi che richiama appunto all'organismo umano ma richiama anche a tanti altri sistemi come tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità interna delle proprietà chimico-fisiche che accomuna tutti gli organismi viventi per mantenere nel tempo il proprio stato di equilibrio attraverso meccanismi autoregolatori nonostante il cambiamento delle condizioni esterne. Allora ci viene in aiuto, sempre facendo questo passaggio dall'organismo umano al nostro sistema di regolazione emotiva, questo modello di Hans Sely che è il modello di quella che lui ha definito sindrome generale di adattamento perché lui suggerisce che noi siamo costantemente esposti ad eventi stressogeni senza voler dare un significato estremamente negativo a questo termine. Lui l'ha proposta in realtà come un modello secondo il quale l'organismo umano si confronta con degli elementi stressanti provenienti dall'esterno che sicuramente lasciano, lui dice, delle cicatrici nel corpo ma l'organismo è fatto per adattarsi però esistono diverse fasi di questo adattamento la prima della quale è la fase di allarme, quella di allerta la seconda è la fase di adattamento la terza purtroppo è la fase di esaurimento il problema è che quando si raggiunge la fase di esaurimento l'organismo non è più disposto ad adattarsi non ha più le risorse necessarie per adattarsi a un ulteriore evento stressante anche per la regolazione credo che possiamo trovare delle analogie tra le diverse definizioni di regolazione ho scelto questa che appunto è la capacità di regolare il proprio organismo e organizzare il proprio comportamento in funzione delle proprie esigenze di quelle dell'ambiente sottolineano in modo autonomo o in modo guidato rimanda a tutto ciò che ci siamo detti ieri perché il bambino che non riesce da solo a trovare la strategia e uso questa parola volutamente perché la strategia può essere letta come atto cognitivo ma può essere letta anche come atto adattivo istintuale volendo perché il bambino come diceva ieri la professoressa Speranza che deve salire una scala può trovare da solo le sue risorse anche un bambino che è gattona può trovare il modo di salire una scala ma sicuramente di fronte alla difficoltà non è detto che il bambino vada immediatamente aiutato può essere prima facilitato questa facilitazione è quella che porterà un miglior risultato nella scoperta del bambino delle proprie potenzialità e quindi nella possibilità di raggiungere maggiori livelli di autoregolazione chiaramente i processi da regolare sono differenti regolazione è un termine che comprende il significato della regolazione è uno solo ma gli ambiti di regolazione sono differenti per cui abbiamo il parametro fisiologico per esempio l'adattamento al ciclo sonnoveglia per esempio la regolazione neurovegetativa abbiamo i sistemi di regolazione sensoriali e sono quelli di cui ci occuperemo un po' più nel dettaglio parlando di disturbo della regolazione della processazione sensoriale la regolazione attentiva, la regolazione motoria, la regolazione affettiva e la regolazione genetica che verrà trattata più tardi quando si parlerà proprio dei meccanismi epigenetici dopodiché abbiamo i tipi e gli stili di regolazione che possono essere ammortizzanti, amplificanti o ottimali dobbiamo tenere in mente che non solo il genitore o il caregiver può essere ammortizzante, amplificante e ottimale ma anche noi noi che facciamo diagnosi o noi che facciamo terapia per cui di fronte a un bambino con un disturbo di regolazione che è già difficile da individuare perché scorporare tutti gli aspetti è complesso dobbiamo anche cercare di facilitarlo senza interporci tra lui e l'esperienza o dall'altra parte dobbiamo cercare di attenuare ciò che per lui è insopportabile dal punto di vista sensoriale, emozionale la richiesta che gli poniamo per metterlo nelle condizioni di dare la sua best performance come diceva Brazelton dunque quando osserviamo un bambino un comportamento espresso da un bambino dobbiamo chiederci se quello sia un comportamento veramente problema quindi disfunzionale o se sia un comportamento che più che disadattivo è pro-adattivo perché i bambini hanno anche bisogno di sperimentare anche attraverso comportamenti che possono inizialmente sembrare disfunzionali la loro migliore strategia di adattamento e non dobbiamo dimenticare che tante volte i comportamenti sono difensivi rispetto sia alle situazioni quindi all'ambiente che i bambini vivono ma anche rispetto a una difficoltà oggettiva di percepire o integrare gli stimoli che provengono dall'esterno questo rimanda al concetto di sintomo che ieri è stato da tutti ricordato perché il sintomo è un'entità fenomenica che grazie per il sorriso che come dice la dottoressa Speranza serve sempre l'interpretazione del sintomo vuol dire restituire la dignità a un'entità che non è né standardizzabile né standardizzata ma che si presenta e va interpretata e quindi dalla normalità alla patologia e il ritorno considerando la vulnerabilità perché come suggeriscono i migliori ricercatori che sono quelli che sono partiti dall'osservazione di bambini normali loro ci ricordano che quando abbiamo a che fare con la patologia dobbiamo sempre riassestare il nostro ago della bilancia sulla normalità perché la normalità è quella che ci può consentire di capire se un bambino ha una deviazione che può rientrare se un bambino sta attraversando un periodo di sviluppo parafisiologico per utilizzare un termine più clinico-medico oppure se in realtà siamo all'esordio di una patologia o di fronte a un quadro di vulnerabilità che siamo obbligati a riconoscere perché su quello si può intervenire e intervenire sulla vulnerabilità significa fare una prevenzione secondaria per cui non è necessariamente terapia riabilitativa ma in questo senso è abilitativa e in questo senso è prevenzione del disturbo successivo io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto perché non si può garantire l'assistenza solo a chi ha la patologia già conclamata perché in ambito neuropsichico è troppo difficile sappiamo che la prevenzione è un elemento che nel concetto di salute è tenuto in una considerazione così grande rispetto a patologie organiche e deve anche esserlo per le patologie neuropsichiche allora porto questo modello fatte queste premesse che è un modello utilizzato da Ruth Feldman in una ricerca sullo sviluppo delle funzioni regolatorie mi è piaciuto molto perché ha preso una serie di teorie e una serie di evidenze e le ha messe in successione per mostrare come quel modello sinattivo di cui vi parlavo è un modello gerarchico ma è un modello integrato in cui se non si raggiunge la stabilità precedente non si possono attivare quelle successive allora lo studio che è stato condotto su 125 prematuri scelti appositamente perché categoria già vulnerabile di suo non patologica non necessariamente patologica è stata osservata prima la stabilità o comunque la regolazione fisiologica e sono stati scelti due parametri della ciclicità del ritmo sonnoveglia e del tono vagale cardiaco come parametro di stabilità neurovegetativa a un anno di età cioè nel primo anno di età quindi a 3, 6 e 12 mesi è stata valutata la capacità di regolazione emotiva all'età di 2 anni cioè nel secondo anno di vita per cui 12 e 24 mesi il parametro della regolazione attentiva è a 5 anni i parametri di regolazione delle funzioni cognitive superiori ovvero le funzioni esecutive di cui parleremo anche domani i problemi comportamentali esternalizzanti o internalizzanti e la capacità di autocontrollo è chiaro che siccome è uno studio in cui sono state fatte correlazioni statistiche molto specializzate molto specialistiche è chiaro che rimando alla lettura di tutte le correlazioni chi fosse interessato però quello che ci dice questo grafico è che nel periodo intanto che c'è anche una correlazione oltre alla correlazione temporale c'è una correlazione con le strutture nervose che sottendono queste funzioni regolatorie per cui a un livello gerarchicamente precedente abbiamo il tronco encefalico che è la struttura nostra più profonda e sede delle funzioni vitali dopodiché c'è il sistema limbico che interviene subito dopo nel passaggio alla regolazione emotiva e poi ci saranno i sistemi corticali per le funzioni cognitive e cognitive superiori quindi nella prima fase è il corpo che si adatta nella seconda fase mantiene lo stato per mantenimento dello stato è chiaro che si fa anche riferimento al fenomeno dell'autoregolazione nella terza fase quindi dal secondo anno il corpo corpo intendo ovviamente anche mente è pronto per apprendere al quinto anno è pronto per sviluppare specializzare le funzioni cognitive superiori cominciando dall'inizio ovvero dalla nascita Sander ci dice che il neonato e il suo sistema di cure primarie costituiscono il suo ambiente di cure primarie costituiscono un sistema biologico vivente formato da un insieme di sottosistemi fisiologici semi indipendenti ciascuno col proprio ritmo che influenzano attività come la veglia il sonno l'alimentazione e richiedono un certo tempo per armonizzarsi e coordinarsi nel bambino e a loro volta devono sintonizzarsi con la periodicità regolare del mondo e delle persone che formano il mondo del bambino voglio condividere con voi il risultato di uno studio svedese condotto su moltissimi bambini normali cioè nati senza particolari condizioni di rischio in cui è stata osservata la sequenza che dal mettere il bambino sull'addome della madre portava alla prima poppata allora è stato osservato che tutti i bambini con un modello estremamente uniforme una sequenza estremamente uniforme ripetuta nel campione stavano 20-30 minuti in uno stato di veglia tranquilla sull'addome della mamma dopodiché schioccavano le labbra iniziavano a perdere bava dalla bocca iniziavano a strisciare per raggiungere il seno materno dopodiché dondolavano la testa a bocca aperta per far rigonfiare l'areola e dopodiché iniziavano la poppata questo stimolava nella madre una produzione di ossitocina la quale ossitocina controlla l'emorragia postparto e riduce i dolori allora io credo che questo sia il primo esempio di integrazione senso-motoria ma che sia anche un primordiale ma sofisticatissimo sistema di co-regolazione in cui i due attori della vicenda si giovano l'uno con l'altro di abilità anche di proposte di sequenze che da una parte sono innate e dall'altra attivano una risposta se questo noi lo trasportiamo a quella che lo stesso Sander definisce la sequenza interattiva possiamo pensare che tutte le stimolazioni e tutti i messaggi affettivi che il bambino manda alla madre e le manda perché è costituzionalmente predisposto alla socialità attivano nella madre la famosa responsività materna per cui se il bambino manda male fra virgolette o in modo distorto i suoi messaggi affettivi probabilmente la responsività materna potrebbe non attivarsi viceversa se la madre per altre ragioni non riesce la madre o il caregiver logicamente non riesce ad attivare quella responsività potrebbe non dare il giusto significato giusto non intendo che sia sempre corretto intendo il significato idoneo a quel momento perché vedremo come tutti i ricercatori dell'infantreserce si sono messi d'accordo sul fatto che il modello di regolazione è fatto non solo di sintonizzazione ma di rotture e riparazioni perché il bambino va gradualmente esposto anche alle frustrazioni perché questo è ciò che gli può consentire di attivare i canali per richiedere e per sopravvivere utilizzo questi due termini perché nel sistema motivazionale che spinge il bambino a relazionarsi con l'altro in primo luogo con la madre o col caregiver Stern definisce due obiettivi la sopravvivenza emotiva che è fondamentalmente la base dell'attaccamento e della diciamo della ricerca del bambino di attivare nell'altro una risposta e in secondo piano l'aspetto comunicativo e di condivisione per cui il bambino anche attraverso forme che sono proto-linguistico proto-comunicative cerca comunque la condivisione nell'altro e questo costituirà la spinta a narrare per cui anche di fronte a un disturbo del linguaggio ieri se ne parlava un ritardo del linguaggio dobbiamo chiederci prima di tutto quale sia la voglia di narrare di un bambino e nel secondo anno di vita tutti questi parametri che hanno caratterizzato l'interazione e l'intersoggettività se si è ben sviluppata nel primo anno vengono interiorizzati dal bambino costituendo le basi per la sua regolazione personale individuale e poi in quella che utilizzerà chiaramente in termini sociali questi stili verranno arricchiti dalle crescenti competenze cognitive e simboliche per cui a un certo punto quella che Strufe definisce la differenziazione emotiva che avviene già ovviamente nel primo anno e che via via si va specializzando perché un bambino deve poter prima riconoscere cioè deve riconoscere deve differenziare le emozioni per poi poterle riconoscere anche su se stesso e per poi poterle regolare è impensabile che un bambino si possa regolare se non sa differenziare la tristezza dalla rabbia o la gioia dalla dalla gratificazione cioè sono tanti gli aspetti emozionali che devono essere differenziati chiaramente rispetto all'età del bambino allora ci dice Shore che la moderna teoria dell'attaccamento è essenzialmente una teoria della regolazione in cui gli stili e comunque le modalità di interazione e di relazione sono alla base della maturazione dei circuiti cerebrali per cui grazie a Dio dice lui l'emisfero destro è plastico e rimane plastico per tutto il corso della vita l'emisfero destro perché a questo livello soprattutto a livello prefrontale viene identificata la zona maggiormente correlata con la regolazione affettiva e perché nelle strutture un po' più profonde dell'emisfero destro viene considerata la sede delle memorie implicite ovvero quelle che Freud definiva il luogo dell'inconscio per cui se le memorie implicite che sono così fortemente correlate all'aspetto di regolazione affettiva si formano in modo coerente e stabile costituiranno la base sicura per l'organizzazione del sé la pelle come ci mostrava quello studio osservazionale svedese è dunque il confine del proprio essere perciò il processo tattile è una fonte primaria di sicurezza per il bambino e questa è la premessa per entrare nell'ultima parte della discussione che riguarda il processo percettivo e di integrazione sensoriale la percezione è una funzione che organizza sensazioni provenienti dagli apparati sensitivi e dagli organi di senso permettendone l'interpretazione e l'integrazione nell'esperienza da una parte abbiamo dunque la necessità che gli stimoli vengano processati nel modo giusto dall'altra parte la competenza regolatoria che permette di mantenere quel famoso stato di cui parlavamo per rispondere in modo coerente agli stimoli che arrivano Temple Grandin dice che non è la presenza o assenza di uno stimolo e credo anche di una persona che stimola a fare la differenza ma è il grado di presenza che fa la differenza allora nel momento in cui la percezione è integrata l'individuo diventa consapevole dell'ambiente e accede alla rappresentazione del mondo pensandolo la rappresentazione del mondo significa arrivare al terzo livello del percorso senso percettivo perché significa che ciò che proviene dall'organo di senso ha fatto un buon viaggio fino al cervello al cervello gli è stato attribuito un significato e quel significato è rimasto impresso nella mente e può essere confrontato e utilizzato costantemente nelle modalità di adattamento alle richieste ambientali Anna Jane Iris è quella che ha più studiato e parlato e insegnato ai terapisti ma anche a noi medici a osservare l'integrazione sensoriale a considerarla tant'è che è una delle basi del disturbo della regolazione cioè sulle quali nella classificazione diagnostica 03 si è specificato per disturbo della regolazione e disturbo della regolazione della processazione sensoriale e lei ci suggerisce che se continuiamo a trattare il bambino con disfunzione dell'integrazione sensoriale come fosse un bambino cattivo il bambino potrebbe iniziare davvero ad esserlo perché il bambino ha bisogno di un rispecchiamento che non sia sempre negativista ma che a volte gli permetta di scoprire quelle parti positive di sé ancora una volta mi viene da fare il collegamento con ciò che diceva ieri la professoressa Lucangeli rispetto a quel bambino che accompagnato da otto persone cercava aiuto nell'estraneo che però probabilmente si mette al suo livello anche io faccio questa cosa bellissima che quando un bambino è in tre stanza mi abbasso subito in ginocchio istintivamente credo che per un bambino sia la cosa più importante trovarsi allo stesso livello dell'altro e per noi è molto importante tornare o salire a livello dei bambini un bambino con disfunzione sensoriale dell'integrazione sensoriale può manifestare iperattività distraibilità problemi comportamentali problemi di coordinazione tonico-motoria problemi di linguaggio e non per ultimo problemi di apprendimento allora nel valutare lo sviluppo in modo integrato dobbiamo fare riferimento ai successivi livelli di integrazione sensoriale è chiaro che solo se i quattro livelli sono raggiunti in modo armonico avremo le caratteristiche necessarie per stare al mondo in modo adattivo al primo livello ci sono i sensi è interessante notare come l'udito e la vista inizino ad entrare in causa al terzo livello di integrazione sensoriale perché al primo livello abbiamo il sistema vestibolare il sistema propriocettivo e il sistema tattile allora il sistema tattile è quello che favorisce l'attaccamento tattile emozionale l'abbiamo già visto l'integrazione tra i sistemi vestibolari e propriocettivo è quella che consente la sicurezza gravitazionale che non è soltanto un parametro neuromotorio è un parametro psichico estremamente importante perché dà al bambino l'idea di avere un posto dove rifugiarsi quindi un bambino con una difficoltà nell'integrazione sensoriale al primo e al secondo livello il che vuol dire intorno ai due tre anni di vita potrebbe sembrare un bambino iperattivo ma è un bambino non integrato potrebbe essere un bambino non integrato un bambino cioè con un corpo poco o mal percepito e quindi con un corpo poco o mal organizzato al terzo livello che abbiamo la percezione corporea la coordinazione dei due lati del corpo la pianificazione motoria il livello di attività l'attenzione la stabilità emotiva cioè questi in realtà sono quelli che devono integrarsi tra loro per poter accedere al livello successivo è chiaro che poi la specializzazione della lateralità e quindi anche tutte le competenze che sono alla base di un buon apprendimento derivano dalla collaborazione di tutti questi livelli e diciamo dall'integrazione complessa di tutti questi sistemi sempre la IRIS ci suggerisce che l'apprendimento neurale attraverso l'integrazione sensoriale è più semplice e ogni esperienza di apprendimento aiuta il cervello a imparare anche molte altre cose le competenze scheggia forzate richiedono molto sforzo e concentrazione e non aiutano il bambino nelle altre aree della vita ovvero traduzione forzare un bambino ad apprendere un meccanismo estremamente specializzato senza aver lavorato su tutto ciò che sta alla base di quella competenza è utile nell'istante in cui lo apprende per la funzione che apprende ma non è detto che gli dia l'abilità per utilizzare quella competenza appresa anche in contesti differenti e qui è il cardine del trattamento abilitativo e riabilitativo perché abilitare significa dare una competenza a un bambino una abilità cioè che lui la possa riutilizzare anche in contesti differenti da quello di terapia o in contesti differenti ambientali da quelli che hanno evocato quella risposta apprendere o addestrare è tutta altra storia è dare una competenza che però rimane chiusa entro quei confini ultima parte è quella che riguarda proprio il disturbo della regolazione in termini nosografici se vogliamo il sistema di classificazione 03 è un sistema multiassiale con un approccio multidimensionale l'utilità del sistema diagnostico 03 oltre il fatto di essersi dedicato in modo specifico a questa fascia di età essendosi resi conto coloro che hanno provveduto alla ideazione e alla stesura dell'incompatibilità delle manifestazioni cliniche dei bambini 03 rispetto a tutte le altre fasce di età della vita quindi oltre questa specificità rispetto alla fase evolutiva del bambino da 03 è che ci dà veramente questo approccio multidimensionale per cui i cinque assi andrebbero tutti quanti considerati nel momento in cui si formula una diagnosi per cui quando ieri si diceva non si può non considerare la storia di un bambino certo che sì non si può non considerarla come parametro fondamentale nel suo sviluppo specialmente ripeto in una fascia di età in cui le competenze stanno emergendo e in cui le competenze potrebbero emergere anche in modo di sincrono tra di loro tant'è che una delle caratteristiche ed è la maggior parte dei disturbi codificati nella classificazione diagnostica 03 è che le difficoltà non sono armoniche e coerenti con tutto il resto degli aspetti diciamo dello sviluppo del bambino poi c'è una differenza sostanziale rispetto al sistema di classificazione per la ricerca anche questa è una cosa molto interessante perché come avete sentito all'inizio la classificazione diagnostica 03 nasce per dare un contributo ai clinici perché il problema è che spesso dovendo far ricerca si ricercano i sintomi o i segni cioè si parte da quella prospettiva fare clinica è un'altra cosa cioè è osservare il bambino e cercare di interpretare quei sintomi che il bambino presenta l'utilità l'abbiamo già vista nell'introduzione per cui non la ripeto la differenza per quanto riguarda il disturbo della regolazione che da una definizione di disturbo della regolazione fra virgolette a specifico si è passati a dare una specificità in termini di regolazione della processazione sensoriale le caratteristiche sono che la reattività sensoriale è atipica ci sono difficoltà motori e problemi comportamentali e si passa da una definizione di disturbo comportamentale che era nella edizione precedente alla definizione di una difficoltà costituzionalmente determinata nella regolazione delle emozioni e del comportamento delle capacità motorie in risposta a uno stimolo sensoriale che conducono all'imitazione nello sviluppo e nel funzionamento bene i criteri diagnostici sono quindi tre che abbiamo appena detto se non sono presenti tutti e tre bisognerà pensare a una diagnosi alternativa e la disorganizzazione la disregolazione la potremmo osservare in diversi ambiti come i processi fisiologici la motricità le capacità attentive tutto quello che finora abbiamo analizzato il disturbo e la processazione sensoriale prevede tre sottotipi che sono l'ipersensibile di cui esistono due differenti manifestazioni il pauroso cauto e il negativo provocatore l'iposensibile iporeattivo e l'impulsivo alla ricerca di stimoli sensoriali che rievocano un po' anche quei sottotipi descritti dalla wing nel 79 e poi nell'88 nelle sue ricerche sull'autismo e sull'autistic continuum e sull'autistic like perché è chiaro ed evidente che nella pratica clinica un bambino con disturbo e la regolazione e la processazione sensoriale assolutamente può sembrare un bambino a rischio di autismo o comunque un bambino autistico se ha già raggiunto l'età per fare la definizione diagnostica però questo è veramente troppo importante perché ci dà l'idea di come la soglia neurologica quindi l'aspetto costituzionale insieme alla strategia di autoregolazione espressa dal bambino definiscano i quattro sottotipi ovvero noi possiamo avere una soglia neurologica questo è il modello dell'elaborazione sensoriale di Dan la soglia neurologica può essere alta o bassa quindi ciascuno di noi non ha la stessa soglia di elaborazione sensoriale come non ha lo stesso livello di integrazione sensoriale ma ci sono delle strategie di autoregolazione che ottimizzano per riprendere il termine iniziale la nostra soglia ce ne sono alcune che vanno in estremo accordo con la soglia altre che vanno in estremo opposizione con la soglia allora un bambino con alta soglia neurologica è strategia di autoregolazione passiva sarà un bambino tendenzialmente iporeattivo cioè un bambino che rimane dentro questa iposensorialità scusate un bambino con soglia alta ma strategia di autoregolazione attiva sarà un bambino che ricerca spasmodicamente le stimolazioni perché la sua soglia è troppo alta cioè avrebbe bisogno lui di stimolazioni troppo forti per reagire e allora le cerca da solo perché la strategia è in opposizione rispetto alla sua soglia allora lì vedremo un bambino tendenzialmente impulsivo se la soglia è bassa avremo una strategia passiva che determina un bambino ipersensibile tendenzialmente quello che viene definito negativo provocatore quindi troppo sensibile ai cambiamenti ma ancora di più se la soglia è bassa e la strategia di autoregolazione è attiva avremo il bambino che evita la sensazione e il bambino che evita la sensazione è il bambino che trova come strategia attiva il rituale per eludere la nuova stimolazione che potrebbe farlo stare male finisco lasciandovi questo piccolo abc della regolazione che ho pensato perché ci sono dei parametri che secondo me per chi si occupa di regolazione sono da tenere sempre a mente il livello di arousal il livello di attenzione il livello di affetto il livello di attaccamento e poi la biologia i bisogni primari tra cui un ambiente di vita stabile è al primo posto i processi basici di sviluppo e le risposte comportamentali e poi la comunicazione la connessione con l'altro la condivisione e la corregolazione dunque per attuare programmi terapeutici efficaci è necessario un inquadramento diagnostico puntuale rispettoso del bambino e perché questo avvenga è necessario conoscerlo tenendo conto della sua storia e mettendolo nelle condizioni di comunicarci i suoi bisogni grazie grazie